Pistoia e i cammini che la traversano passando per la montagna e la piana, la Val di Nievole con le sue bellezze storiche e naturalistiche. Così la provincia si è presentata alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il più importante appuntamento di settore che ha visto giungere nel capoluogo lombardo operatori da tutto il mondo. Evento cui il territorio pistoiese non è mancato partecipandovi in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, l'agenzia regionale che ha il compito di lavorare da fianco a fianco ai territori per la costruzione e promozione delle destinazioni dei prodotti turistici toscani. La Val di Nievole e il suo ambito turistico, oltre che a illustrare le bellezze naturalistiche storiche dei suoi tanti e affascinanti borghi e paesi, ha rilanciato il binomio con il termalismo, forte anche di Montecatini riconosciuta tra i beni UNESCO insieme ad altre realtà termali europee. L'ambito di Pistoia e della montagna è invece puntato sulle tradizioni medievali ed il cammino di San Jacopo, entrato da pochi mesi a far parte dell'Atlante dei Cammini della Toscana. Sono cinque quelli che si intrecciano in città, oltre a quello di San Jacopo, quello di San Bartolomeo, la via Francesca di Sambuca, la via Romea Germanica Imperiale e la via Romea Strata, una trasferta valutata positivamente dall'amministrazione comunale di Pistoia. Abbiamo presentato il calendario nazionale 20 delle città medievali, quindi per le rievocazioni storiche, dove Pistoia ha avuto l'onore di fare il capofila per due anni, ora abbiamo passato il testimone a Viterbo, ma è una rete che sta crescendo, dove a livello nazionale siamo già nove regioni coinvolte, oltre 25 comuni e quindi il turista sia italiano che straniero potrà scegliere una rievocazione storica a secondo il momento in cui sarà in ferie. Allo stand di Toscana Promozione ho presentato il territorio di Pistoia e la montagna pistoiese e quindi questa è la nostra programmazione con una serie di eventi legati alla nostra città, legati al territorio, eventi anche unici che ci contraddistinguono rispetto alle altre città come un parco in città, come una parte delle tradizioni jacopee. Abbiamo portato anche le slide sulla Popart che con la Fondazione Musei aprirà una grande mostra nel mese di aprile, quindi una sinergia con tutti i portatori di interesse.